Carissimi amici ed amiche, buongiorno. Sul caso di Liliana la voglio fare breve oggi, senza nemmeno tanta satira, perché ormai credo sia inutile, dopo aver visto l'ennesima puntata di quarto grado, dove è stato ripercorso il solito copione del gossip, si è iniziato già parlando della doppia vita, l'amico speciale, queste cose qui, e allora vuol dire che evidentemente l'opinione pubblica è stata indirizzata verso un filone che non posterà da nessuna parte. Speravo che qualcuno a livello ufficiale avesse aperto gli occhi e avesse considerato il vero senso di quei contatti telefonici. Ha detto bene ieri Carmelo Abbate, ma di che cosa stiamo parlando? Di quale relazione noi stiamo parlando? Di che cosa? Ci sono 1100 contatti, non so, telefonate messaggi, innanzitutto vediamo da chi a chi, in che percentuale, e vediamo i contenuti, com'è possibile? Ci si chiede che i contenuti non ci siano, contenuti inesistenti, qualche contenuto qua e là con cam, cam, queste cose qua. E allora vuol dire che i contenuti erano altri, riferiti a un altro tipo di rapporto, di condivisione. Il filone che io vi ho spiegato nei giorni scorsi, negli ultimi giorni, su quei spazi che aveva Liliana e che magari condivideva degli interessi insieme con questo Serpino, l'uomo degli occhi asciutti, l'uomo senza sentimenti, quello che non ha versato una sola lacrima né un po' di commozione al ritrovamento. E a che titolo, potete sapere a che titolo ogni volta si fa questa contrapposizione? Lo Serpino dice, lui pensa che, lui ha detto che, a che titolo questa persona, che non contava nulla a livello sentimentale nella vita di Liliana, a che titolo sta lì? Noi chiamano l'amico speciale. Ha avuto ragione che il corpo, secondo lui, è stato portato lì poche ore prima, quindi il giorno 4 di gennaio. Ha avuto ragione, ho ragione io, e tant'è vero che lui lo sapeva, lo aveva previsto, per meglio dire, quando dichiarò che insieme all'amico Salvo, egli doveva andare, poi è andato lui in polizia, a dire, andate a cercare lì, nei giardini dell'ex OPP, perché lì potrebbe esserci il cadavere della povera Liliana e lì stava. Vi ricordo soltanto questa cosa qui. Ci si chiede perché gli inquirenti attendono tanto, se ormai di suicidio si tratta. Perché crede che nella loro mente qualche dubbio esista. Abbiano forse capito in qualche modo che stiamo narrando una storia diversa. forse hanno capito che il segreto di questa tragica vicenda risiede nei silenzi, negli spazi che aveva questa donna. E che probabilmente era a conoscenza questa cosa degli amici più stretti, e la conoscenza soprattutto dello serpenti. Sicuramente, come è possibile immaginare un amore scoppiato da agosto a dicembre. Due o tre mesi di amore incontrollabile ed incondizionato. Attenzione! Voglio fare un appello a voi che siete soli, a voi che avete bisogno di una mano per fare le faccende di casa, magari per problemi fisici. Attenzione a far venire qualcuno a stirare le camicie o a fare servizi vari in casa. Potrebbe sbocciare all'improvviso una storia d'amore fantastica, ma incredibile che metta fine a qualsiasi altra storia della vostra vita. Un giorno una vita, una settimana una vita, tre mesi incredibili. Non ho più speranze. Non ho più speranze che l'informazione possa cambiare. Ho assistito ieri anche all'indecenze che, insomma, lì c'era anche Sebastiano, al quale dicevano ma c'è tanta gente che mi dice che lei ha ucciso sua moglie, che la colpa è sua, è stata lei ad uccidere. E lui gli dice, a me dicono il contrario, che costrui è pazzo, che costrui è un mitomane. Ed è, come dire, un cane che si morde la coda, perché si rinfocolano le fazioni. Si rinfocolano le fazioni. Vedo? Qual è stato il clou della serata? Qual è stato, vi chiedo io, il clou della serata? Quale può essere il clou della serata? La poesia. una donna come Liliana così schiva. Tanto schiva da cancellare i messaggi e fare quei messaggi di uno o due parole, tic tic toc, cam cam, due o tre parole messe in croce. Una donna criptica, anche lei, sintetica, per meglio dire. Eppure, come avvenne già per la poesia dell'immagine della Madonna dell'Immacolata, che è così, in questo caso qui, lei, spinta da un grande amore, scrive una poesia a Serpino. Non ci sono prove di nulla, non c'è niente, anche se dicono ci stanno le cose, non c'è nulla, però Serpino si è conservata questa poesia che gli ha dedicato l'amore della sua vita, quello l'ha sfociato negli ultimi mesi. E poi, possibile mai che parole dolci d'amore di questo genere, dedicata a una persona che sogna la bigamia, che non lo vede così affettuoso, così delicato, però si vede che una sera Liliana prende carta e penna e scrive, dedicata al suo grande, immenso amore, Serpino. Io ci sarò, è il titolo. Il titolo Io ci sarò. Quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami, chiudi gli occhi e cercami fra i tuoi ricordi. Pensa alle nostre canzoni. ad un'autostrada deserta, ad un giallo campo di girasoli, al ticchettio di una pioggia incessante, ad una panchina, ad una dolce e serena mattina. Panchina, mattina. cercami. Anche in una piccola lacrima che brilla ad un pianto d'amore. Tu cercami. cercami ovunque, nei tuoi ricordi. Mi vedrai. Sarò al tuo fianco come sempre. Ti sembrerà di toccarmi, cercami, di baciarmi, di tenermi ancora stretta al tuo fianco. Cercami. Io sarò sempre lì. ferma nei tuoi ricordi. Ed appena ti vedrò apparire, ti bacerò. Con quel sorriso che solo a te ho donato. Quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami. Nei tuoi ricordi. Io ci sarò. Vedete? che poesia d'amore, che come gli è venuto dal cuore malimprovviso, questa donna sintetica, questa donna capace di sintesi incredibile che si lascia aprire nel cuore e si lascia questo effluvio diversi d'amore spontaneo che le sgorgono dal cuore. Che volete più? Si dice, ma non è contestualizzata. Non c'è un primo, un dopo. Vediamo che è scritto lì. Ma non c'entra. Non c'entra. Cosa vi state ad aggrappare adesso se prima c'era scritto qualcosa o se dopo c'era scritto qualcosa? Nicola Castellano dice, la contestualizzazione. Ma cosa c'entra questa contestualizzazione? Lei ha preso carta e penna, ha scritto questo fiume di parole d'amore che ha mandato sul telefono del suo amore. Questo è passato ieri sera. vergogna, 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 dovreste vergognarvi, dovreste vergognarvi di aver fatto passare questa cosa. Se questa cosa fosse stata importante, lo sterpenna l'avrebbe detto un anno fa, siamo ridotti alla frutta. Dovreste vergognarvi per il suo fatto di aver mostrato questa roba. non ve lo dico, non ve lo dico, ve lo dico dopo. Voglio solo considerare e concludere che si sta facendo di tutto per archiviare questo caso. Non si è riusciti ad incastrare Sebastiano, che c'è un carattere difficile per carità, però non si è riusciti ad incastrarlo, perché lui non avrebbe mai fatto del male a Liliana, ma altri forse sì. e allora non si è cercato di vedere eventualmente chi aveva interessi, chi eventualmente l'ha sequestrata, chi eventualmente l'ha uccisa e portata lì. Quali gli interessi? Perché c'erano oltre mille e cento contatti con lo sterpenna all'improvviso, all'improvviso. Tanto da meritarsi questa poesia per lui, lui che veniva a protocollare due volte l'anno, veniva a protocollare due volte l'anno la domanda di contributo per il marathon. Lui che 42 anni prima si erano conosciuti e mai più frequentati, ma quell'amore era rimasto nella mente. E così, dal nulla si è voluto costruire un castello sulla sabbia e questo castello, appena arrivato alle onde, si è sfaldato completamente. E secondo me gli inquirenti anche hanno le mani legate, non ci capiscono secondo me in questa situazione, perché i presupposti sono sbagliati. Quello di voler far passare questa donna, come caduto in un imbuto emotivo che non esiste. Esiste altro, al mio avviso, altro che se non è amore è legato sicuramente ad altri motivi economici, di interessi, in buona fede per carità. Ma ancora ieri si è arrivato al clou. Dopo 14 mesi è uscito fuori questa poesia, questa poesia che è passata come un messaggio, è passata come un messaggio che Liliana scrive, è una poesia che Liliana scrive al suo amore. Vergogna, vergogna questa cosa qui. Questa cosa qui fa il paio con la frase mariana della Madonna dell'Immacolata. è passata così. Se andate a domandare adesso alle persone per strada che bene o male seguono questi casi, sapete che vi dico? Mi dico, ah, vedi che bella poesia d'amore ha scritto Liliana, all'improvviso lei che diceva quattro parole in un'intera giornata, ha scritto questa poesia lunga perché l'è scaturita dal cuore. E allora io dico, vergogna che viene passata questa come una poesia scritta da Liliana e dedicata a Serpino. Non è così. Questa è una poesia messa tanto tempo fa su Facebook da Giulia Torelli. Giulia Torelli è colei che ha scritto, ha messo questi versi sulla sua pagina dedicata di poesie su Facebook. si chiama Giulia Torelli. Quindi è come se uno avesse preso il testo di una canzone e l'avesse impiato, come uno fa una fotografia al quadretto della Madonna dell'Immacolata e va. Invece è stata fatta passare come qualcosa scritta, come un messaggio scritto da Liliana. Allora non si è andrà da nessuna parte. È una vergogna, non mi stancherò mai di ripeterlo. Brava Giulia Torelli, brava Giulia Torelli. È una bellissima poesia questa. È una bellissima poesia. D'amore. Ma in questo contesto non c'entra. Perché nella vita di Liliana c'era davvero poco amore. Mi dispiace che siano fatte queste operazioni un po' così contoste, di gossip. La comunità è veramente scadente in questo caso qua. Non ho altro da dire, non ho altro da aggiungere, se non augurarmi che chi ha responsabilità in questa vicenda ne tragga le dovute conseguenze e si domandi perché. Perché, a quale fine, si butta fumo negli occhi in una maniera così grottesca e non si vada a vedere, finalmente, altre piste, altre problematiche e si mette da parte questa barzelletta grottesca proprio a cui nemmeno un bambino di 5 anni potrebbe credere e viene invece così strumentalizzata. Grazie, un abbraccio a tutti quanti voi.